La qualità indiscursa dell'agricoltura del Piemonte e delle sue produzioni agroalimentari, insieme alle figure di tante donne e uomini che con il loro operato hanno contribuito in modo determinante allo sviluppo di questo settore economico, sono i protagonisti del volume Il Piemonte Agricolo tra memoria e futuro, scritto da Salvatore Vullo e presentato nel Salone d'Onore della Camera di Commercio di Cuneo. Il libro, ricco di dati, nomi, avvenimenti, accompagna il lettore in un viaggio ideale tra le tante eccellenze del territorio subalpino e tra le principali figure che ne hanno determinato promozione e sviluppo. Questa giornata è servita a molti a fare un po' la sintesi in quale terra straordinaria noi viviamo e in questa terra dove il mondo agricolo ha saputo creare le condizioni per trasformazioni che oggi sono le nostre eccellenze che stanno raggiungendo i mercati del mondo e che ci mettono in condizioni sempre di più di avere la consapevolezza che partendo dalla terra e con l'intelligenza degli uomini si possono raggiungere risultati sempre in qualche modo straordinari. Oggi l'analisi completa di cosa l'agricoltura ha saputo regalare a questa terra in termini di promozione, in termini di conoscenza, in termini di risultati economici è stata veramente utile per dare a ognuno di noi che ogni tanto attratti dal mondo così convulso e della quotidianità non sappiamo in qualche modo fare un po' la sintesi di quello che è stato il percorso che ha caratterizzato tanti anni dalla nostra storia. E credo che un grazie particolare lo dobbiamo a Salvatore Vullo per il suo impegno in questa direzione, per l'aiuto straordinario che ha saputo insieme alla Camera di Commercio aiutare a promuovere questi prodotti che oggi sono diventati grandi protagonisti del mercato mondiale e la memoria che serve in qualche modo a costruire poi pagine importanti di futuro. L'agricoltura è la storia ed è quello che ho cercato di raccontare in questo libro perché ci sono tutti gli ambiti produttivi con tutti i dati, valori, numeri, quantità e anche un omaggio a tutti gli uomini e le donne che hanno contribuito a creare questa straordinaria storia anche diciamo gente che ha lavorato nell'ombra e in più curando anche nel libro questo contesto storico-culturale. Il mondo agricolo, la cultura contadina si dice che ha lasciato tante tracce materiali ma poche parole. Il Piemonte ha avuto la fortuna grazie a grandi scrittori come Pavese, Fenoglio, Laiolo, Soldati, Piccinelli, Mutorevelli che hanno portato i temi del mondo contadino e del mondo rurale nelle loro opere e ne hanno fatto io dico sublime letteratura.